Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video oggi andremo a parlare su come creare un fondo di investimento totalmente gratuito stiamo parlando diciamo di più di 400 euro quindi questo video ha un valore di 400 euro e più dipende dal periodo in cui lo state vedendo ma prima di tutto ciò vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanellina e le notifiche e non perdervi ulteriori contenuti del genere allora oggi siamo qui come già detto su come creare direttamente la zero ovviamente poi con questi soldi potete fare quello che volete quindi io vi consiglio di investire così almeno c'è un ritorno ancora molto di più ma comunque ognuno li può prelevare ognuno li può usare si possono poter fare tutto quello che volete quindi oggi però porterò diciamo 5 metodi su come guadagnare tramite i bonus registrazione stiamo parlando dei vari conto corrente ovviamente tutto gratuito quindi non c'è nessun canone da pagare mensilmente annualmente e via dicendo la prima carta che porterò in questo video è Revolut Revolut è un conto gratuito è veramente facile da utilizzare la differenza tra questo conto gratuito e gli altri è che qui potete addirittura addirittura perché non è cosa da tutti comprare le vostre criptovalute tramite Revolut ovviamente tutte quelle che ci sono perché i vari Shiba e Shitcoin e via dicendo ovviamente non sono disponibili nella carta ovviamente qui vedete Bitcoin, Litecoin, Ripple quindi diciamo che con questo già è veramente un fattore importantissimo il bonus di Revolut io in questo video diciamo che vi indico i bonus sui revivibili in questo preciso momento poi ovviamente a differenza di mesi, di giorni potrebbe variare ma comunque tengo aggiornato la descrizione con tutti i propri step che dovreste seguire per guadagnarli Revolut da 50 euro registrandovi ovviamente darò ci sarà la spiegazione sotto nella descrizione quindi Revolut già è un metodo di guadagno di 50 euro ovviamente vi dovete registrare dovete confermare la vostra identità quindi capite bene che dovete fare il video selfie i documenti e via dicendo ma come già detto in diversi video precedenti è come buttare una penna dalla finestra scendere e andarla a prendere quella è la cosa cioè bisogna mettersi un pochino di tempo ma manco 5-10 minuti e poi avete a vostra disposizione il guadagno poi ovviamente diciamo che questa procedura di registrarsi di confermare la propria identità bene o male è in tutte diciamo i metodi che vi porterò in questo video e ovviamente con Revolut seguendo il link in descrizione vi lascio tutti i link in descrizione potete andare a guadagnare i primi 50 euro del diciamo del conto quindi poi ovviamente potete prelevarli e fare quello che volete il secondo conto che vi consiglio di aprire è quello IAP ovviamente è tutto gratuito tutto totalmente gratuito non dovete pagare annualmente mensilmente tutto gratuito qui ci sono 10 euro di bonus iniziali più diciamo il fattore in vita amici che può arrivare a 100 euro quindi capite bene che è un altro ottimo metodo di guadagno ovviamente pure questi c'è la carta potete prelevarli spenderli come volete però diciamo che bene o male in tutte le carte bisogna ricaricare il conto quindi ovviamente poi i soldi rimangono a voi non li spendete quindi bene o male non c'è niente non dovete fare niente perché tanti soldi rimangono a voi quindi è un'ottima cosa qui praticamente è anche per minorenni IAP veramente ottima e qui andiamo a guadagnare 100 euro con questo metodo vi lascio il metodo il link in descrizione su come fare come riscuotere il bonus in maniera completamente facile e gratuita poi andiamo al terzo metodo che sarebbe buddy bank buddy bank è ottimo per quanto riguarda il bonus che se tu ti registri arrivi a guadagnare facilmente 40 euro quindi 40 euro solamente registrandosi mettendo i dati e via dicendo quindi buddy bank diciamo è quella più conveniente riguardo queste carte puoi andare a guadagnare fino a 240 euro invitando amici quindi stiamo parlando di siamo andati a guadagnare 100 con IAP 50 con Revolut 150 più 240 stiamo parlando già di 390 euro in veramente 15 minuti quindi veramente facile come metodo ovviamente dovete invitare gli amici in questo caso ma comunque i 40 euro di bonus sono vostri e nessuno ve li caccia il terzo metodo di guadagno ovviamente questo qui è ottimo per quanto riguarda l'exchange è acquistare criptovalute e cripto.com ora c'è il bonus di 25 dollari se non sbaglio e basta solamente registrarvi e prendere la carta e ovviamente scegliete voi la carta tutto completamente gratuito oddio ci sono diverse carte a pagamento ma io vi consiglio quella alla gratuita che non pagherete mai nulla ed è ottima andrete a guadagnare 25 dollari easy anche con questo praticamente vi lascio i passaggi sotto in descrizione quindi anche con cripto.com è fatta l'ultimo metodo del video è coinbase coinbase veramente incredibile per quanto riguarda il bonus che regala veramente top qui ci sono diciamo già i metodi su come guadagnare ora c'è bounce token che vi regala 3 dollari solamente rispondendo ai sondaggi poi qui è ottimo perché ogni giorno ci sono dei sondaggi all'inizio io ero arrivato a guadagnare una trentina d'euro e ora con l'ultimo aggiornamento e diciamo gli ultimi movimenti potete andare a guadagnare fino a 60 dollari quindi veramente easy poi per quanto riguarda i sondaggi è ottimo perché non sono veramente facili se sbagliate potete correggere il vostro errore e andare avanti e guadagnare quindi anche questo lascio il link in descrizione per la registrazione e niente ragazzi abbiamo fatto il video su come creare il fondo di investimento in una maniera veramente gratuita e facilissima sono 5 conti tutti ripeto tutti gratuiti quindi non dovete spendere niente ovviamente in certi bisogna ricaricare il conto per andare a riscuotere il bonus ma comunque sono soldi che rimangono a voi quindi ragazzi se per questo video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale di attivare la campanellina delle notifiche e non perdere ulteriori contenuti del genere per oggi è tutto noi ci vediamo domani con un prossimo video ciao e a presto